Un presidio fisso e più controlli da parte delle forze dell'ordine in stazione a Gallarate, lo chiedono i cittadini e lo ha chiesto il sindaco di Gallarate Andrea Cassani al prefetto di Varese, dopo la violenta rissa di martedì sera suoni sprangate, bottiglie di vetro rotte e calci tra una decina di ragazzi di nazionalità straniera, poco più che maggiorenni. In attesa di provvedimenti definitivi, polizia, carabinieri e locale, presente anche Cassani, hanno vigilato lo scalo ferroviario e l'area attorno per due serate consecutive. Abbiamo paura, è stato scioccante martedì, qui era pieno di sangue. Sono alcune delle voci dei cittadini che hanno assistito alla scena in piazza Giovanni XXIII, il 21 maggio, dopo le 19. Vetrate rotte della stazione e due feriti in codice giallo, il bilancio di una lite che si è spossata anche nella zona retrostante in via Cattaneo. Il giorno dopo, verso le 17, ancora giovani armati di spranghe e bastoni, ma le volanti della polizia hanno evitato il peggio. Le indagini delle forze dell'ordine continuano, sono stati già individuati alcuni soggetti. La città non è sicura, tuona il PD, alla luce degli eventi appena passati, e chiede al sindaco di riferire quanto prima quali siano le misure che intende perseguire, aprendo un confronto con le opposizioni. Non basta, continua il PD, togliere le panchine e rifare bella una piazza per avere sicurezza.